musica 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 oh eccoci qua press guarda padre io ti benedico allora non c'abbiamo niente proprio giusto una mappa dove vogliamo andare? ah basta si si in città anzi qua davanti qua davanti esatto si andiamo qua che già sento degli infedeli qua t'ho perso eh? t'ho perso già dividiamoci abbiamo fatto male a dividersi dove stai sto qua oh hai messo agro 100 metri siiii siiii vabbè già è finita zè chi è? quando ce la famo contro questi zè? ho trovato un veicolo già con un lanciarazzi sopra vai mettici te 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 io sto in città mi stanno anzi qui 354 zombie come al solito url porta munizioni mi ce l'ho da mettere sopra c'è pure una casetta una tore lì sopra vedi? e no no devo andare più a url che c'è le munizioni è tutto distrutto però eh? si mi c'è un PSA lì? nooo qua c'è un altro veicolo lo pio dai si si pialo pialo e bucate trento devo prendere qui un bottone che mi capita devo sparare eh? devo sparare eh? prendete questo infedeli eh si non mi attira scappa perchè mi hai sparato? no ma io volevo sparare per fortuna non hai mai fatto niente dai 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 che ce lo stanno a distrugge ahhh sono il nome che è successo al veicolo perchè non va più? no perchè non va più oddio scende e inizia a cuore no sono morto ma che cazzo? come hai fatto? ma dove stai? eh Zee sali in macchina sali in macchina sali in macchina sono arrivato alla montagna ma dove stai oh? eh? eh non... non mi senti? suona ci suona ho sparato oh non te sento cazzo io si non stai qua cazzo eh son morto però dai il personaggio che ti sei caga addosso mentre cammina Zeffio oh cazzo ti ho individuato oddio hai visto che figo cacchio non posso girare la visuale hai visto che figata eh cazzo hai fatto eh sto mi stai agganciare rapido l'ho detto oh sto sporco di sangue so mamma mia allora muovi e tu ti voglio far provare muo vengo guarda dove sta che cosa? tu! mi hai visto? si dove sto? stai sopra la montagna si si ma sei sceso dalla cosa al veicolo si perchè? eh ti vedo eh mo sta rientrare aiuto no? eccolo 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 che mi sta mandando i messaggi porco cane mentre proprio sto registrando mamma mia sto la guarda che sto qua è un armone proprio che penso che se lo trova uno su un server è finita per tutti è l'arma definitiva ma anche perchè individui uno con un minuto? mamma vedi? sta dentro al camion e lo ha piano non ti rovina la sorpresa questo qua il mitraiatore che c'avevo ahah e vedi che cosa? scendi ma questo che c'avevi qua? eeeh la peppa che c'ha? m48 tiè eh ce l'avevi in mano ahah guarda io invece ti guarda che mostro madonna tutti e due i mitraiatori presanti che è qua? si divertite io via la macchina tua e vado a fangiro spara a me eh lancio lascio lanciare ah è proprio lanciarazzi si ma puoi vedere? no stai a vedere? prova allora arma prima a mira poi spara dopo che si si stai a vedere? mh 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 madonna vado a fangiro appena te dico sparami aspetta perché questa finiva benissimo vorrei morire ah ecco ti ecco ti mi vedi? mh mh ok pronto? agganciami e sparami quando vuoi io sto in movimento eh ah ok oddio vai eiezione eiezione ma che culo? è mancato vai mi metto fermo spara a me aspetta devo ricaricare si metto dritto aspetta ahahah hai sparato? vado vai scappa no 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 ah che povolo questo che figo mamma mia aggancio rapido quello pure se te muovi però io son dato su una buca e mi ha fatto saltare il mistero mi ha sfiorato che culo figo eh no no dai noi iniziamo veramente eh no bing con finca fa fang 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 oh no se mi partiva un colpo ti ammazzavo perchè? eh mi stai qua davanti oddio non ti gira eh no no non ti gira che oh cazzo quanti zombie? si porca puttana via ma quanti ce ne stanno guarda che vestito che c'ho figo eh stava pure su un video fortunato lì io son suonato senza eh pure ma no vaffa culo la macchina bloccata dei rove no la macchina buggata via 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 corri 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 salta si guarda che ho trovato qua una macchina con la mitragliatrice sopra si vai è tutta messa bene dove stai? sto qua davanti io vai 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 entra corri si anche se è entrato oh scappamo via 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 albero albero si inclina ah 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 andiamo andiamo la base ma chissà la fotte la missione eh ops che hai fatto? ah no il cambio dei rifornimenti è per no è diverso il cambio dei rifornimenti è solo delle munizioni si questo che è? questo è rifornimenti frena perchè? vediamo controlliamo che c'è e ci stanno i zombie dietro lo dico ancora stanno a cuore vabbè stanno lontani qua non c'è niente carrello niente o abbandono si si andiamo con questo io vi ho la mitragliatrice eh si buonotte no aspetta non mi fa sali come mitragliere chi se ne fotte vai vai corri ci è mancato poco quello che dico che è guarda che curva questo qua? oh 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 buono questo veloce 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 metto più avanti vai in perfetto stato mettiamoci più avanti qua questo è per far benzina ve niente ah ma non è che lo vi ho stesso? ah no no lo lascia lo lascia oh se mi facessi ecco come artiglieri ah ecco adesso si la torretta robotizzata eh oh qua c'è qua un altro camion dove? sinistra ah si quello mi sa quello delle munizioni penso o riparazione lo sai o riparazione metto vengo lì dai e delle? vedi che ci sta andando al carrello ah come? oh mp5 a5 vabbè ovvio sempre niente vabbè dai ah si si Ural Ural? riparazioni? si ah ok vabbè lo lascia 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 sbrigati sbrigati stanno arrivando? uno solo eh vai vai lo sai che sta mitraglietta è robotizzata? c'è la x guarda guarda l'uccelino mi nasce una conferenza stampa brutto pezzo di merda ah cacchio si è scansata oh bella quella lì c'ha sempre la roba vado a vedere pure qua ah questi qua dai dai veloce veloce qua sopra c'è qualcosa e qua sopra c'è sta c'è sta quello del lancio ai missili c'è sta qualcosa CZ qua CZ Scorpion che sarebbe? mitragliatrice se poi prendi la eh vabbè oh io mi pio questa c'è una mitragliatrice sopra no 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 ok morti tutti? mhm perché si è bugata ah no ecco finalmente grazie zombie oh 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 sbrigati che stanno a venire pure dalla strada eh no no corri corri cazzo non ho potuto prendere CZ mi sa che c'ha qualche gomma rotto sa dove stai? eccomi quale sei? eh? arrivando c'è un viandaccemente su una montagna eh? ah si e fammo un attimo il punto della situazione perché penso che qua c'è stanno le armi eh saliamo su questa? si si vai saliamo aspetta io mi buco qui dentro qui ok tramite qua eh a salire su quell'altra eh che idiota no ok un po' di panico con la visuale ok allora quale è meglio? il tuo? penso che il tuo sia meglio eh? però questo c'è solo 15 colpi quindi lo lascio perché il tuo ci non ha di più oh unza ok oh che fai scappi? dove vai? dove vai? ok dove vogliamo andare mappa? mappa? allora qua vicino c'è sta gilavur ah intanto dobbiamo andare in giù mmm no vabbè non andiamo a fare missioni no 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 però se ci capita vogliamo andare seic si si ecco fio dove sta il freno? mo so dimenticato ok ok in questa cittina qua eh no non penso si a 400 si a 400 si a 400 è questa questa si a questa e questa potenta roccia schivata eh però la pianta no vabbè la pianta che fa no no c'è ci sono due piccoli uno ribaldato qua e uno lì buono eh delle porta munizioni oh allora vediamo qua che ci sta io vado a aprire porta munizioni m249 oh m200 bono preso ah qua c'è sta un'altra cosa qua niente qua non c'è sta nessuno eh qua niente non c'è sta ma il porta munizioni che vuol dire? cioè che dà le munizioni o no? si si eh allora porta la macchina qua almeno la riempimo niente niente ti è guarda il mitragliatore eh no dai via la pianta via la pianta ah dove dove eh lì sta c'è cioè tu vuoi aprire la macchina tua io pioque no vabbè lo porti lì l'hai controllata quest'altra sempre capottata? si niente? no però era buona questa eh no riarmo in corso vedo quante munizioni sta niente vabbè continuano ad andare in giù si